ciao a tutti pastizioni e bentornati nella mia cucina come state spero bene oggi prepariamo insieme gli hamburger di ceci io ho utilizzato i ceci secchi tenuti da mollo 24 ore e poi bulliti per circa 40 minuti e poi frullati nel mixer ma voi per comodità potete tranquillamente utilizzare i ceci in barattolo ho trasferito poi la purea dei ceci in una ciotola e unito tutti gli altri ingredienti che vi lascio tutto in descrizione ho dato una bella mescolata e ho fatto riposare l'impasto per 5 minuti poi con le mani bagnate ho formato gli hamburger ho preso una bella quantità di impasto ho fatto una sorta di palla tra le mani lo schiacciata e l'ho passata poi nel pangrattato un po' di palla la zona di spottù non pertinutisco questo è un po' di palla un po' di palla c'è un po' di palla un po' di palla una volta terminato trasferito gli hamburger nel cestello della frigitrice ad aria ho spruzzato un po d'olio e gli ho cotti per 10 minuti a 200 gradi voi potete tranquillamente cuocerli in padella o anche al forno a voi la scelta comunque sia sono buonissimi serviti con una bella insalata sono un secondo sfizioso è leggero grazie per aver guardato il video se vi va lasciatemi un like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ricetta ciao